Cari amici di Quotidiano in classe, bentornati da Xavier Cobelli, direttore di Quotidiano.net. L'argomento che sottoponiamo alla vostra attenzione per il dibattito di questa settimana è l'unità d'Italia. Nel 2011 si compiono i 150 anni della fondazione dello Stato unitario. Che cosa pensate di questo anniversario? Da che parte state? Con quelli che sostengono che sia una ricorrenza da celebrare in ogni modo per cementare ancora di più l'Unione Nazionale? O con quelli come ad esempio il Ministro per la Semplificazione Calderoli che ha preannunciato che non sarà presente alla prima della serie di manifestazioni previste per festeggiare i 150 anni dell'unità d'Italia? In sostanza, fratelli d'Italia, l'Italia sedesta o sta ancora dormendo? A voi la risposta.